Patrizia! Ho avuto un problema ragazzi, ora ve lo racconto eh Amore, mi porti... mi dai le salviette umidificate per favore? Adesso Allora, sapete perché? Mi sono accorto, e questo ve lo regalo come cosa per il futuro Mi sono accorto di avere la merda sotto le scarpe Il problema qual è? Il problema qual è? È che l'ho appena toccata e c'ho la mano pregna di merda E perché mi ero messo comodo E ho capito Ma ma non è merda, è una cosa zuccherosa Che cazzo è? Ho assaggio quasi quasi No, non è cosa Eh, togli ma... amore, prendi con la strappa e la metti fuori così poi mi ci ricordiamo Non è merda! Questo è importante Sì, almeno non è merda Vabbè Boh, sembrava una cosa zuccher... Boh, magari è merda che non puzza, ma che ne so Vabbè, volevo condividere sto momento con voi, spero che abbiate apprezzato Sembra merda ma non è merda, wow Guarda, per sentire c'era solo tassa gialla, però non mandava Siamo che non te la sentivi No Bella Michael No, ma non mi sembrava merda perché se no pussava Però stava sotto le scarpe, quindi non... Ma era molto probabile che era merda secondo me Però vi dico, ho avuto le mani impregnate di sta roba E meno male mi sono pulito con le serviette umidificate, quelle profumose Eh, ho capito, rega Succede, non è che... Certo, certo Meno male me ne so accorto un tempo, penso che se me la mettevo in faccia Facevo tipo guerra, tipo soldato quello là che era pronto per andare in guerra